Giorno 1, siamo appena partiti. Come stai Ale? Benissimo, prontissimo ad andare verso l'infinite oltre. Il freddo? Il freddo? Vuoi i gradi quelli esatti o i gradi percepiti? I gradi percepiti siamo sotto venti. Eh dai, esagerato. Questi siciliani, guarda. Sono le 11 e in realtà sembrano le 6 di pomeriggio, ma tanto sembreranno le 6 di pomeriggio tutto il giorno, quindi ce ne facciamo una ragione. Ale è lì, arriverà. Intanto noi andiamo a vedere l'acqua. E come stai? Tutto bene. Il tuo naso? Il mio naso è semicongelato. Non puoi vedere. Però guarda, vabbè, magari non fare proprio un dettaglio. Ok. No, va bene. Guarda. Carino il nostro vanco, la volpe. Benissimo, la volpe è un lupo. È una volpe bianca. Se non questo ci porterà in giro per l'Islanda. Speriamo. Come scherzi? In effetti, rende l'idea. Vediamo. Adesso vediamo Ale che cade. Guarda, questo è poco ma sicuro. C'era anche un cartello di pericolo, ma noi l'abbiamo proprio evitato alla grande. a noi, abbiamo avuto il nostro canale. E così via, siamo in viaggia. E' una cosa che sta avvicinando alle cose. E' una cosa che sta avvicinando alle cose. E' una cosa che sta avvicinando alle cose. Sono i cavalli. Sono belli, sono bellosissimi. Guarda che grossi e che tozzi che sono. Sono le gambe corte. Si vede che mangiano bene. tre piroclastiche. Cosa vuol dire? Vabbè, piros, fuoco, si può fare anche le tipologie. Ale, dove siamo? Siamo a Kerid. Che cos'è? Cos'è? E' un lago spento. Un lago, vedi? Un lago spento o un vulcano spento? Non so che adesso è un lago. C'è gente che partia. Perché è completamente ghiacciata. Andiamo a tinere. Si. Stiamo scendendo. Abbiamo lasciato Ale sopra. Ehi la. Vedo un farocco. Twist. Dai. Pro, eh. BAM. Gamba ad angolo. Guarda, guarda con una gamba. Con una gamba. Un piede, un piede. Un piede. Boom! Il naso. Ale, facciamo la spesa? Si. Cosa ci serve? Ma, mi serve un trucco di abete. Come un trucco di abete? A te serve? No. No, ma guarda, è super offerta. A quanto? Per me è questo? Per me è questo. Allora, vediamo. Oh, è il mio caso. È il mio caso. Questa è così, questo è il mio caso. O fine, ho infatti sulla gamba.